no minchia questo qua volevo far vedere aspetta aspetta minchia no 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 aspetta non hai capito un cazzo non hai capito mi hanno fatto una youtube pup attenzione oddio vabbè la qualità un po perché ha preso ah no ok max cola ieri critica zeb 89 per il suo declino su only fans attenzione sturate le orecchie non ci siamo non ci siamo ci sta succedendo la musica c'è cosa moonlight sonata e di più ho visto che qualcuno ieri l'altro ieri ti ha donato 250 grazie poi ha chiesto il rimborso parte che vabbè ma tutto il frutto purtroppo dei ragazzo mio sei brettino sfruttalo sfruttalo eri geniale io ti giuro ho visto ma l'ho visto un po così non c'ho le cuffie più o meno non è che che follia è follia sta cosa è follia uno dei più amati odiati mettiamola così e mi ricordo quando quando tu veni su twitch veni venisti ho preso questo cazzo ti feci come bravo benissimo sono contento che sei venuta poi ho iniziato a giocare con qualcuno poi dopo un po qualche mese vedo che mi spunti in chat io stavo giocando giusto a dead by daylight si stavo usando cazzo 3 2 tale battaglia ti spunti nasciato scappato perché gli stavo facendo è la st SAYった no chiudo sarà ma il primo cazzo che non ne era né anche tanto wow e poi in chat c'è anche un suo moderatore perchè praticamente sta cercando dei grazi per questo tuo fantomatico dream team ok? dream team che poi è stato composto da Lubansky il fantasma dei cazzi era con me in il fantasma dei cazzi il fantasma dei cazzi il fantasma dei cazzi team che poi è stato composto da Lubansky il fantasma dei cazzi ultimo era con me per qualche mese in element network element network vabbè posso spiegare in parole povere network di streamer per la crescita sono uscito poi anch'io perchè vedevo che tirava brutta aria ragazzi e poi vedi che entrò appunto nel torno aria porca puttana ma danny ce ne ha fatta una praticamente la scorsa youtube poop no ha fatto una fake reaction di me a ciccio gamer che faceva il video le cose che lasciavano al cornetto no è successo questo e faceva vedere che il vero lanciatore di cornetti alla nutella ero io no problema che gli ho detto guarda è carino ma c'era un po' le scorreggie le cose non è che si confacevano molto fare eh mica questa questa ci sta vedi che entrò appunto nel tuo culo che lo stavano nel fantasma ah io non sparirò sarò sempre qua e poi e poi l'ultimo ma non l'ultimo per importanza altrimenti grazie il tuo videogioco non riceverò nessun aggiornamento altrimenti grazie a quanto pare c'è il certo gm è stato scappato non ho ben capito sono sincero non ho ben capito stavi andando bene stavi andando bene io ti amo sincero a me è uno dei top grazie io spero che il giorno ti guardi indietro e guardi i tuoi contenuti e dici cavolo ma però erano forti nei contenuti ma intrattenimento cerca di voler più grazie ti dico solo questo è la chiave per il successo minchia uff letteralmente roba da pazzi letteralmente minchia danie tanto grazie grazie ancora per la compagnia un bacione dal vostro pilatoni che follia è follia sta cosa è follia grazie a tutti grazie a tutti